mi trovo da velomax a orte in provincia di viterbo e la novità della nuova stagione è l'affitto di questa bicicletta a pedalata assistita il modello è la s duro della i bike che di listino costa 2.199 euro monta un motore elettrico a pedalata assistita della yamaha pv 250 watt l'affitto di questa splendida bicicletta può variare dalla mezza giornata fino ad arrivare anche a un mese o anche più un'ottima bicicletta vedete ruote da 29 quindi ultra moderna un cambio 1 per 11 velocità della tram ottimo anche il rapporti la la scala dei rapporti la possibilità anche di pedalare molto agile vedete questo quanto è grande per la precisione è un 11 46 avanti ovviamente un rapporto unico come tutte le biciclette a pedalata assistita questo questa è la batteria questa che vedete la batteria con quattro livelli di assistenza può arrivare a una media massima di 70 km ma anche oltre sapendola utilizzare impianto frenante idraulico forcella ammortizzata ovviamente si può regolare anche qua bloccarla oppure tenerla che funziona guardate bello le saldature il telaio la forma del telaio molto molto moderna come vedete il carro posteriore ribassato come va adesso di moda ragazzi che dire questa bicicletta ripeto la trovate davvero max a orte in provincia di viterbo in affitto e ovviamente se la volete anche acquistare c'è già la disponibilità in pronta consegna pollice in su sempre